Martedì 8 giugno 2021, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori sul canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione Marche, c'è occhio ai giornali, commento alla stampa del giorno, ovviamente i giornali sono il Carlino e il Corriere Adriatico e le edizioni sono per ovvie ragioni anche di spazio e di tempo quelle di Pesaro e Urbino. Iniziamo come di consueto dando uno sguardo al calendario, poi diamo uno sguardo al tempo e subito dopo i giornali. Oggi è San Medardo, andiamo in Francia, qui siamo in Francia, 5.27 l'alba, 20.53 il tramonto. Il sito della protezione civile delle Marche per la giornata di oggi prevede un cerro irregolarmente nuvoloso, con nel pomeriggio copertura nelle zone interne, in particolare nel pomeriggio e prevalenza di sereno invece lungo la fascia costiera e primo collinare. Vedete la grafica, i temporali solo in montagna, per il resto avremo un po' di sole e qualche nuvola, mentre domani il tempo sarà marcatamente migliore nella parte della costa, qualche temporale soprattutto in montagna. Alla parte del giovedì invece è lo stesso, avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche nuvolosità in più soltanto in montagna. Allora, adesso andiamo subito a Ponte Sasso, nella spiaggia di Bagnaldia, perché ci aspetta il nostro bagnino con i suoi super occhiali. Marco Marcantoglio, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, sembra Miami a dire il vero questa mattina, ti sembra Miami? Buongiorno, grazie a cui Miami addirittura, siamo invece a Ponte Sasso, ci vorrebbe anche il sole di Miami, sinceramente, adesso come adesso, se arriva quest'alta pressione almeno riusciamo a vedere un pochino. Parliamo un pochettino di questa giornata di oggi, come sarà Marco dal punto di vista mezzo? Oggi è velato come ieri, magari un pochino di sole esce nel pomeriggio, però non arriva ancora quest'altra pressione, ce la fa aspettare, ce la fa proprio, vediamo comunque presto. Come mai questa cosa? Mare comunque meraviglioso, eh non si capisce. Senti, ti faccio vedere il mare, dai, adesso giri un pochettino, ecco qua, guarda che spettacolo. Mare stupendo. Mare davvero bello. Allora, senti, stamattina parleremo, Marco, di lavoro, perché a Cattolica c'è un problema con gli albergatori che non trovano il personale e quant'altro. Allora, mi è venuta in mente questa domanda da farti. Nel tuo settore avete problemi di personale, nel senso c'è gente che vuole ancora fare il bagnino oppure è troppo faticoso? Allora, partiamo dal presupposto che il bagnino è il lavoro più bello che ci possa essere, gente paga per venire al mare e tu ci lavori, però non si trovano, non si riesce a capire, non si trovano bagnini, non si trovano baristi, non si trovano camerieri, non si capisce questa cosa, però è un peccato proprio. Questo è significativo quello che ci stai dicendo, ci fa riflettere molto, perché comunque notoriamente da che mondo è mondo il bagnino, così come il giornalista, secondo me è il lavoro più bello del mondo, eppure si fa fatica a trovare. Esatto, non si trova. Non si trova. Non c'è verso. Una volta una volta si faceva perché almeno uno conosceva qualche ragazza, si andava... Questo anche adesso. Sì, però... Eh vabbè. Marco, grazie allora, noi andiamo avanti con il giornale adesso. Buona giornata e buon lavoro, buon lavoro. Allora, intanto c'è la buona notizia annunciata ieri dal governatore Acquaroli che le Marche hanno raggiunto il milione di dosi inoculate, quindi insomma la situazione nelle Marche da questo punto di vista è abbastanza buona, tagliano un primo importante traguardo. Poi c'è, altra notizia che pubblica sempre sul Carlino di Pesaro il giornale, insomma che le farmacie, nelle farmacie partono le prenotazioni, non solo quelle comunali ma anche le farmacie private. Poi c'è la foto notizia invece sull'edizione di Pesaro che riguarda il deposito della polizia locale dove vengono messe le biciclette trovate abbandonate oppure che sono state rubate e poi insomma lasciatele. C'è anche la tua, questa è la domanda che serve ovviamente per così stimolare il lettore o comunque le persone a verificare, a comprare il giornale innanzitutto e poi verificare effettivamente se c'è anche la propria bicicletta. Questa è la foto notizia dell'edizione pesarese. Poi c'è la cronaca. Stalking, infermiera denuncia all'ex imprenditore nei guai con un divieto di avvicinamento, poi da Fano pannolino pieno di coca preso un quarantenne. Sulla, sempre sulla prima, da Fano 120 e 80 libri da presentare a Passaggi Festival. Domani 38 posti in palio, quindi al Palace di Pesaro 4.000 candidati per il concorso della Regione. La politica bora del PD serve un congresso vero e un cambio generazionale e poi l'attacco dei geometri urbanistica, pratiche a rilento. La situazione è gravissima. Qui sotto, di taglio basso, superacquisto per la Megabox, parliamo di pallavolo. Ecco Kosceleva, firma la schiacciatrice della nazionale russa, ha vinto Mondiale Europeo e titoli nazionali, mentre Basket, la VL, guarda anche al Brasile per i rinforzi. Petrovic, il candidato coach, avrebbe indicato due nomi, giocatori che hanno il passaporto italiano. Il Corriere Adriatico, comunali, inteso come farmacie, pronte. Il portale, internet, invece no. Vaccini in farmacia, ieri la piattaforma ancora non funzionava, ecco dove per notarsi oggi. Le strutture private tentennano e denunciano poche certezze su quantità e tipo di dosi. Via Le Trieste, partenza ad ostacoli, la pioggia rovina il debutto. E poi, ieri il Corriere Adriatico segnalava che il sito internet dell'aeroporto Sanzio di Falconara delle Marche era poco aggiornato, anzi obsoleto diremmo noi, e oggi si apprende invece, parte il super sito dell'aeroporto. Da oggi parte il super sito dell'aeroporto, certe volte il caso gioca a strani scherzi e stavolta, almeno a sentire il diretto interessato, c'è finito l'aeroporto Sanzio con quel suo sito congelato ai voli pre-Covid e mai aggiornato, che però adesso, a quanto pare, sembra quasi fatto apposta, insomma, il giorno dopo, stranamente dopo la denuncia del Corriere Adriatico, parte questo super sito, che evidentemente era già pronto, bastava un giorno prima e avrebbe fatto saltare la notizia al giornale, però vedete quante volte il destino gioca brutti scherzi. Allora, lavori all'ex Tribunale di Pesaro, ora la Procura apre un'inchiesta mentre a Vallefoglia, violenza in piazza, regolamento di conti con pugni e coltelli affano invece le terme di Carignano, Carloni dice faremo un patto di sviluppo. La protesta invece ad Urbino, i centri estivi dal 12 luglio, per qualcuno è troppo tardi, i PD e Viva Urbino infatti contestano e poi la Megabox piazza il colpo Cosceleva, arriva una russa super. Sei ospedali regionali, sei ospedali delle Marche, cinque più l'Inca di Ancona, sono praticamente Covid free, cioè non hanno all'interno pazienti malati di Covid. E poi il milione di vaccini somministrati negli hub. Questo è il titolo del Corriere Adriatico, dove si fa il punto della situazione della pandemia nelle Marche. Il governatore Acquaroli dice un traguardo importante, poi grazie a tutti, nelle strutture sanitarie restano 17 pazienti positivi in rianimazione, solo 20 i nuovi casi nell'ultima giornata, sei sono sintomatici. Ancora però due vittime correlate al virus avevano 91 e 87 anni. Vaccinazioni, turismo e negozianti si sfilano. Qui si affronta la problematica, di cui si era già parlato anche ieri, degli imprenditori che in un primo momento, in prima battuta, si erano offerti per aiutare lo Stato a vaccinare i propri dipendenti, quindi ad accelerare il piano delle vaccinazioni. Poi però in realtà lo Stato è andato avanti in maniera piuttosto spedita e adesso, anzi ieri, l'assessore regionale Saltamartini si domandava che fine avessero fatto quegli imprenditori che si erano resi disponibili appunto ad ospitare in azienda un hub, tra virgolette, hub vaccinale, un centro per le vaccinazioni per i propri dipendenti e quant'altro. Ieri si faceva questa domanda Saltamartini, oggi risponde in qualche modo indirettamente, ma comunque sempre su questo argomento, il presidente della Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, il direttore. Allora, Varotti cosa dice? Non paghiamo quello che ci spetta gratis. Varotti di Confcommercio dice ormai le fasce d'età sono sparite e quindi tutti gli addetti si possono prenotare da soli e ricevere il siero in pochi giorni. Il sindaco di Gabiccio invece Pascuzzi dice le marche vanno veloci, l'importante è rifornire le farmacie. Dunque, per quanto riguarda le vaccinazioni a nostro carico, dice Varotti, no grazie. Farle improprio costerebbe troppo, tra medici, infermieri, frigoriferi, struttura di controllo degli accessi, assolutamente no, i commercianti si pronotteranno come tutti e si metteranno in fila per il vaccino all'ex Ristò, quindi a Pesaro, o a Urbino o a Fano. Varotti di Confcommercio Marche Nord non è per niente d'accordo con i colleghi di Marche Centro e Sud che vorrebbe avere i vaccini per poi procedere alla vaccinazione in autonomia. Quello che fanno della provincia di Ancona, dice, a me non interessa. Noi invitiamo gli associati a vaccinarsi nelle strutture pubbliche, ora si può e si può per tutte le età. Ma io andrei a leggere, e vi segnalo questo articolo, sempre sul resto del credito di oggi, perché qui c'è l'amara constatazione del Presidente dell'Associazione, l'albergatore Serra, che dice circola adesso un altro virus, quello di non voler lavorare. Ora, lo leggiamo perché secondo me dice cose, tra l'altro, che fanno riflettere. Abbiamo parlato poco fa anche in collegamento diretto appunto con un bagnino, con il bagnino dei bagnalda di Ponte Sasso, il quale poco fa ci diceva che anche su quel fronte, insomma, è la stessa cosa. Non si trovano baristi, non si trovano bagnini, insomma, non si capisce cosa sta succedendo, cosa stia succedendo. Allora, c'è un altro fronte pandemico. Leggiamo questo articolo. La mancanza di personale negli alberghi. A Gabice Mare abbiamo bisogno di almeno 100 persone da assumere. Angelo Serra, Presidente degli Albergatori, dice ci sono 84 alberghi e si può dire che ognuno ha bisogno di almeno due addetti. Io sono andato a prenderli ovunque, da Cassino alla Puglia, dalla Romania alla Tunisia. Ho anche chiesto aiuto ad una agenzia interinale. A questo dramma, che è ricorrente, quindi è un po' come dire, un po' tutti gli anni c'è, ma quest'anno è molto peggiorato. Ci siamo trovati a terra per un'altra ragione, alla lotta tra albergatori, anche tra amici e colleghi, per accapparrarsi il personale degli altri. Mi sono andate via due signore, sentite qui, mi sono andate via due signore che pulivano le camere che pagavo 1.500 euro nette al mese. Erano con me ormai da diversi anni. Per qualche giorno mi hanno detto che se ne andavano perché un albergatore di Cattolica dava loro 300 euro in più al mese, quindi 1.800 euro. È uno stipendio che non prende neppure un ingegnere con qualche anno di esperienza. Siamo impazziti, dice ancora, per non parlare dei cuochi. Quelli bravi sono pochi e c'è il mercato nero addirittura. Prendono 4.000 euro al mese ma vengono strappati via a suon di bigliettoni. Non si può continuare così, siamo noi le vittime. Ora, questo davvero apre uno spaccato che si sapeva già, vabbè adesso a parte gli chef è giusto così, insomma, spesso gli chef rinomati, insomma, che fanno ricerca e quant'altro, studiano e fanno esperienze in giro per il mondo, quindi si fanno un certo nome, quindi è giusto che in qualche modo vengano anche pagati magari qualcosa di più. Certo, siamo a delle cifre incredibili, 4.000, ma chef che prendono anche il doppio, il triplo rispetto a questo. Ma comunque, quello che fa pensare appunto che c'è tanto lavoro ma mancano i lavoratori. Lo dicevamo qualche giorno fa, sempre la segna stampa, non c'è personale perché non c'è proprio la voglia di lavorare, la cultura, il concetto di andare a lavorare. Ora, come poi questa gente si mantenga, francamente, resta poi un mistero. Intanto, tornando comunque a parlare, continuando a parlare di lavoro, Amazon, nella carica dei 3.000 nuovi posti c'è anche Camerano di Ancona, quindi le marche. Il deposito marchigiano di smistamento è tra le sedi italiane che il gigante del commercio online potenzierà entro l'anno. Dunque, questo deposito di Camerano rientra tra le sedi italiane che Amazon intende potenziare e complessivamente, entro la fine dell'anno, il gigante del commercio online creerà 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia, portando la propria forza lavoro complessiva a oltre 12.500 dipendenti rispetto ai 9.500 di fine 2020. Dal 2010, anno del suo approdo nella penisola, la creatura di Jeff Bezos, ha investito oltre 5,8 miliardi di euro creando oltre 9.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2.600 solo nel 2020. L'azienda non ha, quindi Amazon, non ha rivelato il numero esatto di dipendenti che verrà assunto nelle marche nel 2021. Quindi quest'anno, in base ai piani già divulgati. Ma nei prossimi anni il deposito di smistamento, quindi delle marche, che ha una superficie di circa 4.000 metri quadrati creerà oltre 40 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Inoltre è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano oltre 80 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali, quindi ai clienti marchigiani. Ma Massimiliano Viti, che ha curato questo articolo, immagino ha anche un po' le difficoltà perché, come tutte le altre grandi aziende, insomma, le multinazionali, non è sempre facile avere risposte. Immagino avrà mandato la sua belle mail con le domande, questi hanno risposto. E quando Viti ha chiesto ci potrà essere un ulteriore sviluppo di Amazon nelle marche, la risposta è stata, la posizione anzi dell'azienda è la seguente, in Amazon abbiamo una lunga tradizione nel non commentare i nostri piani futuri. Intanto da Vallefoglia, insomma, c'è gente che dicevamo non vuole lavorare, ma trova il tempo per andare a fare appugni o accoltellate in piazza. Questi ragazzetti, questi giovani che continuano a sfogare questa rabbia repressa, evidentemente accumulata in questi mesi. Pugni e coltelli, torna la violenza, questo è il titolo, regolamento di conti in piazza. Non siamo nel Bronx, non siamo a New York, non siamo nelle città metropolitane, siamo in un piccolo paese della provincia di Pesurbino, oppure in Vallefoglia, dove c'è stata questa rissa notturna a Montecchio. Un testimone dice sono scesi in tre dall'auto e hanno iniziato a picchiare. Chi era presente non ha dubbi, più che una risse è stato un tentativo di regolamento di conti per un fatto accaduto probabilmente nel pomeriggio. La violenza si è materializzata sabato sera, poco dopo le 22.30, davanti al caffè della piazza che si affaccia su Piazza della Repubblica. Da alcune auto arrivate, sgommando, sono scesi tre giovani che in pochi secondi hanno dato il via ad una scazzottata furibonda con alcuni ragazzi già presenti. Questa invece è l'altra pagina del Corriere Adriatico. Da Fano, 30 milioni per Carignano. Carloni, accordo di sviluppo, il vicepresidente della Regione, propone una sinergia istituzionale coinvolgendo il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Poi una carambola, un incidente di auto, traffico in tilta nell'ora di punta. Siamo a Fano, coinvolte tre autovetture in Viale 1 maggio. Le persone restano in lese. Variante, il Comune si svegli dal torpore. La consigliera Fattori applaude il risultato del sondaggio commissionato dai gnoti. Bacchiocchi dice che il completamento è strategico. Tommaso Mazzanti, riteniamo che la complanare rappresenti la soluzione migliore. Poi anche qui lo schianto, tre auto, ma sono tutti illesi. Poi Alice è l'atleta fanese delle meraviglie. Parliamo di una ragazza, Alice Pagliarini, che a 15 anni sta davvero regalando grandi emozioni dal punto di vista atletico. A pochi mesi dalla sua precedente prestazione record italiano nei 60 metri indoor ha raggiunto il suo primo treguardo della stagione. Il primo obiettivo di quest'anno è fare un altro record italiano negli 80 metri. e poi voglio vincere, dice lei, i campionati italiani. Devo solo fare meglio di 9,75. Ci aveva rivelato poche settimane fa questa 15enne caparbia fanese che oltre alla velocità ama il disegno e il cinema. C'è un invito, sempre dalla pagina di Fanno, a riaprire la porta della banca perché sotto la sede di Creval, la vecchia Carifano, in piazza si ramificano dei cunicoli che vanno proprio verso la piazza 20 Settembre. Forse lì, secondo qualcuno, ci sarebbero le terme romane. E quindi adesso si fa una certa pressione, soprattutto gli archeologi fanno una certa pressione per riaprire questa cosiddetta porta della banca, insomma, per cercare di trovare queste terme romane. È una galleria che dovrebbe essere riaperta, appunto, perché non si possono fare degli scavi in piazza. Quindi, ecco, si potrebbe ripartire da questa porta, da questa galleria. L'esigenza di riprenderle le indagini nel 1983 dopo i rilievi compiuti con il georadar. Poi sul biodigestore, invece, terre roveresche, biodigestori che sono stati decisi dai privati, ora serve un commissario, è la richiesta di articolo 32 alla Regione per l'Ata, via libera degli enti per la mancanza del piano. Poi, pannolino pieno di coca, arrestato un quarantenne a Fano, 25 grammi di polvere bianca, non era il talco, in un nascondiglio che non è sfuggito ai carabinieri, intervenuti sul posto per una overdose. Pannolino per bebè, pieno di cocaina, lo aveva riempito con ben 25 grammi di polvere bianca, un nascondiglio che sembrava perfetto. Peccato però che in quella casa non c'era traccia di bambini, di infanti, così ai carabinieri di Fano non è sfuggita la stranezza di ritrovarsi tra le mani quel pannolino. E lo hanno aperto e trovato, appunto, la droga. Poi estate missionaria, organizzazione avanti tutta, si parla del centro missionario di Ocesano e del campo estivo di lavoro e di formazione missionaria, come sempre organizzato in collaborazione con la pastorale giovanile di Fano. Poi sotto mascherine sui bronzi dei grandi in Piazza Amiani, vedete qualcuno, non so se è una cosa voluta oppure uno scherzo, comunque hanno messo queste mascherine sui bronzi dei giardini di Piazza Amiani, siamo sempre a Fano, in particolare sono stati coperti i volti di Giulio Grimaldi e Ruggero Ruggeri, invece è stato risparbiato Luciano Anselmi. I volti coperti con le mascherine chirurgiche che usiamo per la protezione contro il coronavirus hanno fatto la loro comparsa nella mattinata sulle statue dei giardini di Piazza Amiani. Ora, a Pesaro, invece, dal Corriere Adriatico, a pagina 12, operazione Viale Trieste, una partenza ad ostacoli. L'assessore Belloni dice recupereremo la pioggia, ha impedito la verniciatura delle indicazioni sulle aree APU. Dunque, Viale Trieste, dove andranno via le auto, la pioggia frena la verniciatura, quindi dice iniziamo nella notte, pedonalizzazione confermata dal 19 giugno, se il meteo ovviamente ci assisterà. Spostati in Viale Marconi, i posti per disabili. Ieri mattina si sono visti i tecnici delle ditte incaricate dal Comune di Pesaro sul lato ponente in Viale Trieste per avviare queste operazioni di preparazione delle due aree pedonali in corrispondenza dei tratti di Viale Zara-Ninchi e Viale Marconi-Pola. Mentre, questo è un articolo che ho trovato molto interessante, ve lo sono letto questa mattina tutto, un articolo di Tiziano Mancini che intervista il ferroviere che ha dato l'ultimo fischio alla Fano Urbino. Eccolo qua, il ferroviere Sartori, Giorgio Sartori, che fece partire l'ultimo treno nel 1987, ma dice delle cose molto interessanti, andrà della Marcorda, che va bene, ma non è questo. Volevano eliminare, dice lui, più di mille chilometri di ferrovia, ne tolsero però soltanto 98. A Urbino non si protestò abbastanza. E allora, vediamo, che cosa dice? appunto che in quegli anni, negli anni Ottanta, le compagnie Bucce e Sapum, qualcuno se la ricorderà, pure la Sapum, ecco, cominciarono a fare la concorrenza al treno locale, quindi gli autobus in concorrenza con il treno, che lo ricordiamo, era un treno piccolo, la famosa Littorina, grigio-azzurra, e che in qualche modo faceva appunto questo tratto Urbino-Fano e che lo faceva in un'ora. Ecco, nello stesso periodo, quindi negli anni Ottanta, il Governo nazionale cominciò a ventilare l'ipotesi della soppressione dei rami secchi. La cosa curiosa fu che di 1090 chilometri di ferrovie da chiudere in Italia, alla fine ne tagliarono, come abbiamo detto, solo 98 di questi chilometri. Due di questi rami, la Fano-Urbino, e una in Abruzzo. Tra l'altro, pochi giorni prima che cadesse il Governo, è con lui il dicastero del Ministro, allora signorile, che aveva firmato appunto questa soppressione. Anche qui, vedi, è una questione di tempi, bastava magari qualche giorno e forse si sarebbe risparmiata questa chiusura. Ma comunque, probabilmente le pressioni politiche, le proteste della popolazione e degli altri tratti a rischio avevano avuto effetto. come dire, mille chilometri ne hanno chiusi soltanto 98. In altre parti hanno fatto fuochi e fiamme per evitare la soppressione. A Urbino, che cosa fecero? Nulla. Silenzio totale. E sentite che cosa dice appunto di questo. Qui invece nulla, non fecero nulla. Mi viene da sorridere amaro a leggere tutti i giorni sui giornali del ripristino della ferrovia. Se ne avessero parlato allora così tanto, forse non sarebbe stata soppressa. Invece ci fu un silenzio generale. A che cosa lo attribuisce? Ma forse è l'indolenza degli urbinati più propensi al lamento, al vittimismo che all'azione. In effetti sono anni che i nostri giornali non rischiano mai la pagina bianca tra Ferrovia, Fano Urbino, la strada Fano Grosseto con la ciliegina della Guinza. Il menù delle chiacchiere è servito ogni giorno sulla tavola degli abitanti di queste terre. Ma per Sartori una speranza c'è nonostante tutto. E la speranza la potrete leggere sul giornale Oggi in Edicola anche se poi dice sono sogni da consegnare alle prossime generazioni probabilmente più dei giornalisti che dei ferrovieri. Intanto, restando ad Urbino è morto l'artista Riccardo Piccardoni a Macerata. Aveva 76 anni, era urbinate e formatosi alla Scuola del Libro a Prodone la città marchigiana per insegnare nel liceo artistico Canta la Messa. Allievo di Leonardo Castellani fu parte attiva della scena culturale marchigiana maceratese di adozione ma insomma nato a Urbino aveva 76 anni. Mentre sulla pagina andiamo avanti questa la saltiamo ecco la pagina di Senigallia Lungomare e Mameli lavori conclusi ora la segnaletica il cantiere sarà di notte un'isola petonale gli operatori e il sindaco non prima delle 21 il caso Regine o Regine Regine assente alla riunione. Intanto i carabinieri hanno coinvolto numerose scuole per parlare di cyberbullismo e abusi la DAD con il capitano dei carabinieri e poi mi pare che siamo allo sport sì il Fano il Fano per ora non è in vendita Traini è un futuro tutto da scrivere dice Traini fosse per me sarei già pronto a ripartire sia in serie D che in serie C il presidente Fatò Fidani vuole solo un po' di tempo per metabolizzare la retrocessione il patron ha onorato con puntualità tutte le scadenze ed è anche per questo che l'Alma è al primo posto nella lista delle ripescabili mentre sul resto del Carlino i tifosi sempre del Fano chiamano il sindaco ci aiuti a cambiare proprietà i Panthers 77 annunciano una richiesta d'incontro chi ci ha portati in serie D deve lasciare la società ovviamente il riferimento ovviamente è al presidente del Fano Fidani e con questo noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa dunque vi ricordo che questa sera alle 21 dopo il telegiornale delle 20 e 30 andrà in onda un approfondimento in studio su Passaggi Festival uno il primo di alcuni appuntamenti che serviranno appunto secondo questo il secondo appuntamento che servirà appunto per spiegare ai nostri telespettatori che cosa accadrà dal 18 al 25 di giugno quando avrà inizio questa importante manifestazione dedicata alla letteratura grazie e i libri grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti